Musica Congresso dei Radicali Italiani l'undicesimo, seconda giornata, siamo in compagnia di Daniele Carcea che è membro del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani e con lui in qualche modo estendiamo un pochino il suo intervento, cioè gli diamo la possibilità di estenderlo, un intervento in materia economica che ha fatto il Comitato. Di cosa hai parlato? Spiegaci anche a noi e al pubblico di Libri.tv Allora, io mi sto concentrando ormai da qualche anno sulle materie economico-finanziarie e la fattispecie quelle che riguardano la crisi che stiamo vivendo, la crisi economica-finanziaria mondiale, subprime, crisi delle banche, di solverità, di liquidità e ultimamente crisi dei debiti pubblici europei con questa trasmissione della crisi dall'America in generale anche all'Europa. Quindi ho cercato di analizzare intanto che secondo me c'è stato un chiaro attacco da parte delle holding finanziarie mondiali per spostare appunto il focus sull'Europa a causa del fatto che questi si sono accorti che la Banca Centrale Europea non è in grado di, per deficità dello statuto di questa Banca Centrale Europea, di coprire, di intervenire là dove si ha un vero e proprio attacco sui titoli del debito pubblico con vendite alle scoperto come sono state fatte l'anno scorso e come continuano a fare per far salire lo spread. Tradotto, cercando di essere il più semplice possibile, i grandi gruppi finanziari o comunque chi vuole fare profitti ha venduto i titoli dei debiti pubblici dei paesi europei, Italia compresa, per poter far risalire i tassi di interesse e ricomprarli dopo e fare così dei guadagni. Allora ho cercato innanzitutto di capire cosa fare ora e quello che potrebbe essere fatto ora è passare a una Banca Centrale Europea che garantisca l'acquisto di titoli laddove non c'è una domanda sufficiente a comprare questi titoli in modo da far abbassare i tassi di interesse. Questa però è una proposta che diciamo fanno tutti o fanno in alcuni, però a livello europeo la Germania ha un net definitivo per ora su questo tipo di trasformazione della Banca Centrale Europea. Mi sono riandato a guardare quello che è un passaggio storico, quello del divorzio fra Banca d'Italia e Tesoro avvenuto nel 1981. Fino allora c'era la prassi consolidata, viene chiamata obbligo, però non era proprio un obbligo giuridico, però di fatto quando c'era un'asta di titoli di Stato del debito pubblico, se l'offerta era di 10 milioni di lire e l'offerta ammontava a 9 milioni e mezzo, cosa succedeva? Che la Banca d'Italia interveniva, stampava moneta e comprava i rimanenti 500 mila lire, la differenza 10 milioni, 9 milioni e mezzo, 500 mila lire di titoli, li comprava lei, se li metteva in portafoglio e stampava moneta. Siccome questo metodo era abbastanza diffuso all'epoca, iniziarono le prime critiche dicendo così il tesoro spende, espande come vuole, crea debito, tanto c'è la Banca Centrale che acquista i titoli. Si può criticare questo tipo di impostazione, però fino allora aveva mantenuto i tassi di interesse dei titoli di debito pubblico bassi perché la Banca d'Italia interveniva e comprava la rimanenza là dove le aste non erano interamente coperte. Nel 1981 Andreatte e Ciampi ebbero la bella idea di scardinare questo sistema e da qui nasce il divorzio fra Banca d'Italia e tesoro. Dimmi Gianni se fino ad ora sono stato abbastanza chiaro o cerco di essere ancora più… Sembra che sia abbastanza chiaro, lo è anche per me che non sono certo dotato. Mi rendo conto anche, ho fatto un interventore in commissione, che non è facile comunicare, a volte si danno troppe cose per scontato. A quel punto venivano emessi i titoli di debito pubblico, quando la domanda era inferiore all'offerta la Banca d'Italia non era più chiamata a intervenire e a comprare la differenza. Cosa succedeva? Che questa differenza veniva rimessa sul mercato a un'asta successiva, però veniva leggermente aumentato il saggio di interesse in modo di garantire il collocamento anche della rimanenza. Questo è il primo passaggio fondamentale. Quindi piano piano, non avendo più la Banca d'Italia che comprava al solito tasso di interesse, piano piano iniziano a salire i tassi di interesse perché chiaramente l'offerta non sempre era coperta dalla domanda. Piano piano inizia a salire questo tasso di interesse. Poi c'è un altro fatto che dal 1979 in poi si entra nel serpente monetario. Quindi viene chiesto all'Italia, come a tutti i paesi, di tenere i cambi fissi. Questo lo spiega molto bene il professore Alberto Bagnai che ha tenuto addirittura una lezione intervista con Claudio Messola che dura due ore e venti. Per tenere i cambi fissi bisogna che in Italia arrivino capitali perché altrimenti si svaluta la lira però non era più permesso di far svalutare la lira. Quindi bisognava rendere appetibili con i tassi di interesse più alti i titoli del debito pubblico. E allora ancora un gradino in più i tassi di interesse iniziano a salire. Si passa a 5, al 6, addirittura a toccare numeri a due cifre. Cosa succede in sostanza? Che dall'81, dall'80, dove il rapporto PIL-debito pubblico è pari al 50-55%, nel 1992 abbiamo proprio il grafico che chiaramente non ho dietro però mi posso assicurare che il debito pubblico arriva al 120%. Tutti comunicamente attribuiscono all'aumento della spesa pubblica l'impiennata del debito pubblico. In realtà questo dato non è vero. C'è un piccolo aumento della spesa pubblica rispetto al PIL, però siamo nell'ordine di cifre del 35-40%, quindi è un lieve aumento. Quello che è il grosso aumento è la spesa per interessi sul debito pubblico che l'Italia è costretta a pagare a causa di questi due, non incidenti, due fatti voluti per comunque iniziare la costruzione dell'Europa che però ci hanno portato a raddoppiare in termini e in valore assoluto il rapporto PIL-debito pubblico e il valore del debito pubblico. Quindi questi fatti andrebbero studiati, sviscerati per capire che tipo di errore è stato fatto e magari di cosa c'è bisogno per il futuro. Daniele, è stato abbastanza chiaro quello che hai detto, anche interessante, è una visione abbastanza non comune sulle motivazioni della situazione attuale. Abbiamo qualche minuto ancora, qualche tua considerazione in merito a come sta andando questo congresso, alle relazioni del segretario e del tesoriere, come sembra che stia andando? È noto che c'è parecchio brumeggio, come si dice, dalle nostre parti. C'è questa posizione di radicali italiani che forse non è stata ben compresa, ci sono stati degli attriti, fra segretario, tesoriere, anche Pannella che è intervenuto, questa storia della galassia, la doppia tessera, secondo me sono cose abbastanza complicate e involute. Io penso che ci saranno le elezioni a breve e noi per essere molto pragmatici dovremmo cercare un'intesa col PD, sia per entrare nelle regioni dove una eravamo e una non siamo entrati, sia per le prossime politiche, fare un accordo simile a quello dell'altra volta. Purtroppo alcune azioni parlamentari, alcuni voti hanno creato un bel contrasto fra noi e il PD, certi voti anch'io non li ho condivisi, non ne ho rilevato la necessità, sembrava quasi di fare un torto, senza però nemmeno un risultato politico di riforme, dei voti dati a prescindere e questo ha comportato degli strappi che ora secondo me dovremmo cercare di ricucire, anche con un po' di umiltà, però so come funzionano certe cose. Grazie Daniele Carcea Grazie a voi